Dal Vangelo di Matteo In quel tempo, sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti al Vangelo. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Eliato che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Eliato. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva «Questi è il figlio mio, la mamma, in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo!» All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse «Alzate e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risolto dai morti. Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla seconda domenica di Quaresima e come nella prima ogni anno ci viene proposto dal Vangelo il brano delle tentazioni, così nella seconda ogni anno ci viene proposto il brano della trasfigurazione di Gesù sul monte Tavo. Questo è il motivo che ci ha portato a Crecchio per registrare la buona novella nella Chiesa Parcocchiale dove, come potete vedere alle mie spalle, c'è un bellissimo quadro che rappresenta proprio l'evento della trasfigurazione. Di solito, nel Vangelo, gli episodi sono raccontati uno di seguito all'altro senza troppe precisazioni temporali. Questa volta, invece, l'Evangelista Matteo ci dice che l'episodio della trasfigurazione avviene sei giorni dopo e quindi scatta immediatamente la curiosità di sapere cosa era successo sei giorni prima. Sei giorni prima della trasfigurazione Gesù con i suoi discepoli si trovava a Cesarea di Filippo e a un certo punto domandò ai discepoli chi dice la gente che io sia e soprattutto voi chi dite che io sia? E Pietro, a nome di tutto il gruppo, risponde tu sei il Cristo, tu sei il Messia, tu sei il figlio di Dio. E Gesù lo loda perché non con la sua intelligenza, non con la sua perspicacia, ma per un dono dello Spirito Santo, per una illuminazione che veniva da Dio, Pietro ha potuto rispondere in quel momento. Gesù si sente quindi pronto per annunciare per la prima volta ai suoi discepoli più stretti, ai suoi apostoli, ciò che gli accadrà lungo il percorso della sua esistenza e quindi per la prima volta annuncia la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. A quel punto Pietro ancora una volta interviene e questa volta interviene per dire a Gesù non sia mai Signore, tu non devi andare a Gerusalemme dove dovrai essere giudicato, mortificato, picchiato, addirittura dovrai patire e quindi morire. Non sta scritto in nessuna pagina della Bibbia questo. Il Messia è protetto da Dio, il Messia è benedetto da Dio. Non può avere tutti questi torni, non può sopportare la morte, anche se tu ci hai detto che il terzo giorno risorgerà. E allora Gesù deve dire a Pietro, come prima gli aveva dato un complimento, deve dire a Pietro qualcosa di spiacevole. Tu sei per me Satana, tu ti stai mettendo in mezzo fra me e la realizzazione del progetto di Dio. Tu sei un ostacolo fra me e la realizzazione del disegno del Signore perché tu ragioni secondo i uomini, secondo la logica della pianura e non secondo Dio. Il clima nel gruppo, lo immaginate, non era più molto sereno, non era più molto favorevole. Capita anche a noi quando qualcuno ci rimprovera di avere un pizzico di risentimento verso di lui. E quindi probabilmente i giorni successivi non furono bei giorni per Gesù e per gli Apostoli. E quando sei giorni dopo Gesù dice a Pietro, Giacomo e Giovanni venite con me, vi voglio portare su un monte e vi voglio portare lì per pregare, probabilmente ha rischiato perché non era scontato che Pietro, Giacomo e Giovanni gli dicessero di sì. Provate a litigare con qualcuno e dopo qualche giorno a dirgli andiamo a pregare insieme. Se quell'altra persona non mi manda all'altro paese, poco ci manca. E invece Pietro, Giacomo e Giovanni gli dicono di sì. Accettano questa proposta del Signore, si lasciano prendere in disparte, si lasciano accompagnare sul monte. E il racconto di ciò che avviene sul monte evidentemente non è solo per soddisfare la nostra curiosità o per farci venire un po' di invidia nei confronti di questi tre discepoli privilegiati nei confronti degli altri, ma è perché Gesù vuol dirci che anche noi dobbiamo fare la stessa esperienza se vogliamo essere discepoli davvero a 360 gradi, fino in fondo, se vogliamo essere capaci di annunciare e testimoniare il Vangelo proprio nella pianura, nelle attività quotidiane, nella nostra casa, in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro e in ogni altro luogo dove ci dovessimo trovare ad andare. Quindi la prima cosa che sperimentano questi discepoli e che dobbiamo sperimentare noi è l'essere presi da parte. Gesù crea con loro e per loro un momento speciale che vuole creare anche con me e anche con voi, fratelli e sorelle, e ci prende con sé. Prendere è un verbo importante, impegnativo, che noi spesso utilizziamo solo in riferimento alle cose, ma che invece è riferibile anche alle persone. Forse la maggior parte di voi ricorderanno che fino al 2004 prendere era il verbo del matrimonio. Io prendo te come mia sposa, io prendo te come mio sposo. Quindi Gesù con questi discepoli voleva avere una relazione profonda, intima, sponsale. Il nostro rapporto con Gesù, la nostra fede, il nostro cristianesimo, non può essere qualcosa di superficiale, qualcosa che rimane sopra sopra la nostra vita. Ci vuole coinvolgere nell'intimo, come appunto fa una relazione sponsale. Se noi non comprendiamo questo, l'episodio della trasfigurazione ci è del tutto inutile. E quindi saliti sul monte, questi tre discepoli fanno l'esperienza della vicinanza con Dio. Il monte, come tante volte vi ho già detto, per gli antichi era il luogo dove Dio abitava, dove era più facile incontrare. Il monte era il luogo della logica di Dio, opposta, contraria alla logica della pianura. In pianura vige la logica del più forte, di chi vuole dominare, di chi si vuole imporre, di chi vuole asservire a sé le persone. Sul monte, nella logica di Dio, vige la logica del servizio, della fraternità, dell'amore, della misericordia, della condivisione. e lì, sul monte, Gesù si trasfigura. Il verbo utilizzato dall'Evangelista significa ebbe una metamorfosi. E probabilmente, quando sentiamo questa parola, che si usa non troppo frequentemente, i nostri ricordi vanno alla scuola, quando studiando le scienze, ad esempio, ci hanno fatto vedere la metamorfosi, la trasformazione del bruco in una farfalla. Tanto era brutto, orribile, ripugnante il bruco, tanto era bella, attraente, affascinante la farfalla. Un po' ai discepoli sul monte capita questo. Gesù, in pianura, spesso veniva in riso, giudicato come un fallito, considerato un perdente. Addirittura il profeta Isaia, come sapete, nei carmi del servo sofferente, aveva detto che di fronte a lui ci si copre la faccia. È un obbrobio così grande che ci vergogniamo anche semplicemente a guardarlo. Sul monte, invece, come il bruco trasformato in farfalla, noi vediamo la vera identità di Gesù, vediamo la sua gloria, che non è la gloria della potenza, non è la gloria della forza, ma è la gloria dell'amore, la gloria della misericordia, la gloria del perdono. Per questo motivo il suo volto diventa luminoso come il sole. Per gli antichi il sole era la più semplice raffigurazione di Dio per la sua lucentezza e per la sua incorruttibilità. Gli antichi non conoscevano le macchie solari, non sapevano che il sole prima o poi sarebbe estinto. Noi lo sappiamo, ma resta il concetto della luminosità del sole. Così come le vesti di Gesù che rappresentano la sua dignità, il suo essere più preciso e perfetto sono vesti di luce. chi si trasfigura insieme con Gesù, chi lo segue sul monte farà anche su di sé la stessa esperienza. Infatti Gesù ci ha detto qualche domenica fa non solo che Lui è luce ma che anche noi siamo chiamati ad essere la luce del mondo. E poi appaiono Mosè ed Elia a rappresentare l'Antico Testamento. il Pentateuco, la legge, i libri storici e i libri profetici. Tutto ciò che aveva parlato di Gesù nell'Antico Testamento è rappresentato da questi due uomini che finalmente si trovano di fronte a chi ha realizzato ciò che loro avevano detto, ciò che loro avevano annunciato. Ma Mosè ed Elia erano anche due uomini saliti sul monte per vedere Dio e la sua gloria ma non potettero vederlo. Mosè lo chiese esplicitamente a Dio voglio vedere la tua gloria ma Dio gli disse tu non puoi vederla perché chi vede il volto di Dio deve morire. Tu mi potrai vedere ma soltanto di spalle. Mi potrai vedere quando sono già passato mi potrai riconoscere nelle situazioni che vivi nelle cose che osservi nelle persone che incontri. Ed Elia dopo aver vinto in modo dirompente con i sacerdoti e i profeti di Baal e dopo averli ammazzati probabilmente pensando di fare la volontà di Dio deve fuggire nel deserto per non essere ucciso dalla regina Gezzabene e poi viene condotto sul monte anche lui al cospetto di Dio perché possa operare la sua trasformazione la sua conversione. Sente prima un terremoto poi un fuoco violentissimo poi un vento capace di spattare le pietre ma Dio non era nel terremoto nel fuoco nel vento impetuoso Dio non è dove si manifesta la forza Dio era nella sottile voce di silenzio di un vento leggero Elia deve riconoscere Dio dove pensava che Dio non potesse essere anche noi dobbiamo riuscire a fare così e poi in tutta questa bellezza interviene ancora una volta Pietro che è affascinato che è ammaliato da tanta bellezza la vuole abitare vuole rimanere lì e vuole rimanerci per sempre Signore è così bello per noi stare qui facciamo tre tende una per te una per Mosè una per Elia per noi non c'è bisogno ci basta questa luce ci basta questo calore ci basta questa bellezza ma il Vangelo ci dice che non è sufficiente semplicemente vedere la bellezza contemplare la bellezza quella bellezza contemplata la dobbiamo riportare in pianura la dobbiamo riportare nella quotidianità perciò appare subito una nube una nube molto densa simbolo simbolo della presenza di Dio della presenza del suo spirito quella nube che aveva accompagnato il popolo degli ebrei nel deserto difendendoli dal calore del sole durante il giorno e illuminando i loro passi durante la notte ora è sui tre discepoli così come è su di noi perché il Signore ci copre con la sua presenza il Signore è vicino a noi in ogni momento e il suo spirito è addirittura dentro di noi che ne siamo il tempio e da quella nube si ode una voce è Dio stesso che parla è Dio che rivela la verità delle cose e quella voce per la seconda volta così come nel momento del battesimo dice di Gesù che è il figlio di Dio che è il suo prediletto che in lui Dio si è compiaciuto ma aggiunge una parola nel battesimo non fu detto ascoltate perché Gesù ancora non aveva iniziato a parlare ora la voce di Dio dice ascoltate certamente è un comando io e voi dobbiamo ascoltare Gesù ma è una raccomandazione di un padre è l'invito di un padre che ci dice mi raccomando a voi ascoltate Gesù se volete la felicità nella vostra vita se volete realizzare la vostra esistenza seguitelo e seguite quanto vi dice subito dopo i discepoli rimasero atterrì erano impauriti perché finalmente avevano capito la verità e avevano capito che seguire Gesù era una cosa impegnativa che li coinvolgeva in tutta la loro esistenza e che metteva in gioco la loro stessa vita perciò si erano abbassati avevano abbassato lo sguardo e tremavano come le foglie e allora Gesù si fa loro vicino vi invita ad alzarsi il verbo della risurrezione mettetevi in piedi iniziate una vita nuova la vita da risorti quella vita alla quale in questo tempo di quaresima ci stiamo preparando e camminate insieme con me sembra dire Gesù ai discepoli e a noi non abbiate paura non temete e scendono finalmente lungo le pendici della montagna verso la pianura per riprendere l'attività di tutti i giorni ma con uno sguardo nuovo sulle cose sulle persone su se stessi e anche su Dio Gesù era rimasto da solo e solo Gesù deve essere il nostro punto di riferimento nella nostra vita uomini di donne di cristiani di discepoli questa seconda domenica accelga una luce grande nella mia e nella vostra vita fratelli e sorelle e rinfrancati dalla vicinanza di Gesù che ci rimette in piedi ascoltiamo le sue parole e seguiamo fino alla Pasqua di risurrezione di risurrezione di risurrezione di risurrezione